Amici di Euromusica, è per me un piacere immenso ospitare un'artista emergente ma di grande talento e ha un potenziale immenso. Ha pubblicato pochi giorni fa il suo secondo singolo, Worthless, ma ce lo spiega meglio lei. Stiamo parlando di Amila Dot. Benvenuta. Grazie, è un piacere essere qui. Ecco, partiamo subito dal tuo ultimo singolo, Worthless. Ce lo vuoi raccontare? Sì, allora, Worthless l'ho scritto quando avevo 13 anni, quindi ormai sei anni fa, ed è stata una, diciamo, una creazione molto all'ultimo minuto, perché l'ho creata per un concorso in cui dovevo partecipare, quindi avrei dovuto fare una cover, ma poi ho deciso, diciamo, all'ultimo minuto di mettermi nella mia stanza e scrivere. Ho preso la pianola e ho scritto tutto veramente nell'arco di un'ora, avevo di sicuro finito tutto, quindi, e dopo tre giorni l'ho, appunto, cantata in un pubblico piccolo, ma comunque, e quindi ne andavo molto fiera. Poi non pensavo che sarebbe diventato un pezzo, quindi sono molto contenta. Questo è il tuo secondo singolo, quindi, è, diciamo, il secondo capitolo di una, di una tua nuova vita. Perché parlo di nuova vita? Perché il 2 settembre, qui mi sono preparato, il 2 settembre hai pubblicato un post sul tuo profilo Instagram, in cui hai presentato la nuova te, così dal nulla. Diciamo, e chi già ti seguiva è rimasto un po' spiazzato, io ero tra quelli. Per cui, diciamo, è così dal nulla. Un personaggio è, per certi versi, diciamo, aveva una vita precedente sul web, adesso entra così ambattesa e ti sei presentata. Ti conoscevano com'è, ma adesso ti conoscono com'è, com'è Amilla. E questa idea di venire allo scoperto, dopo così tanto tempo, da dove è nata? Allora, beh, sono canto da quando sono piccola, in generale amo la musica da sempre. E chi mi conosce da tanto tempo sa che comunque questo è sempre stato il mio sogno. Quindi non è stata più di tanto una novità, perché mi conosceva bene, però di sicuro ho voluto ripresentarmi, perché appunto ho avuto un passato nel web, facendo video su YouTube e soprattutto con mio fratello. Però volevo proprio approfittare il momento giusto della mia vita per potermi slanciare, diciamo, nel mondo della musica, che è una cosa che ho sempre voluto fare. E proprio un anno e mezzo fa, circa, ho avuto il piacere di iniziare a lavorare proprio sulle mie canzoni e dopo averne finito un tot, ho deciso di presentarlo. Quindi sì, ho deciso proprio di presentarmi, tra l'altro, con un altro nome, se si può dire, che è il mio secondo nome in realtà, perché ci ho messo veramente, penso, almeno sei mesi a capire come mi sarei chiamata, perché non volevo usare il mio nome, il mio nome, insomma, di Emma, ecco. Però mi è stato proprio consigliato di usare Camilla e mi hanno convinto, una persona in particolare mi ha convinto a usare Camilla, con una spiegazione molto lunga e quindi mi sono convinta quel giorno e poi ho scelto semplicemente di diminuire, insomma, le lettere del mio cognome per fare una cosa un po' più internazionale. Quindi è sempre stata una cosa in programma, ecco. Nella mia vita stavo solo aspettando il momento giusto e di sicuro finiti gli studi liceali. Era il momento adatto, a mio avviso. Hai detto che è stretto questo brano quando avevi 13 anni. Non a caso, tra l'altro, la protagonista del video è una 13enne, ma c'è qualcosa di autobiografico qui dentro? Allora, sicuramente sì. Mi è capitato, soprattutto in prima media, mi è capitato di subire del bullismo e infatti ho dovuto cambiare scuola media e quindi sicuramente autobiografico, non totalmente, perché tendo a prendere pezzi della mia vita e prendere spunto, però non raccontare tutto, perché comunque mi piace tenere una sorta di riservatezza comunque per me e rimanere nella mia bolla di privatità. Però in generale c'è sempre un po' di me in tutte le canzoni, anche nel primo singolo. Quindi sì, autobiografico, appunto, fino a un certo punto. Però sì, a 13 anni ero scritta, infatti non a caso. Non ho mai specificato l'età, ma è di sicuro una ragazza delle medie, la protagonista. Ecco, e andiamo totalmente al momento. Qual è la musica che non può mancare nella tua playlist? Qual è l'artista che ti ispira particolarmente? Allora, guarda, risponderò proprio perché io uso Spotify e c'è appena stato lo Spotify Wrapped. Risponderò proprio con quello che mi ha detto il mio Spotify Wrapped, quindi i miei artisti più ascoltati quest'anno di sicuro rappresentano cosa sono io, che è una parte inglese, totalmente internazionale, una parte italiana di cui seguo persone totalmente diverse, che sono a livello internazionale Taylor Swift, Billie Eilish e Olivia Rodrigo, sono sempre state da quando hanno debuttato, ecco. Invece gli italiani, Levante, Vinicio Caposela e Guccini sono quelli più ascoltati, quindi sono proprio due mondi diversi. Origini per i gusti musicali, veramente sono perfetti. Ma sai che ci avrei giurato su Olivia Rodrigo? Eh sì, vabbè, ma poi c'è un anno in più, ma io l'ho vista proprio debuttare perché la seguivo, era un'attrice, ecco lei, e sapevo già che aveva un talento enorme, quindi quando ha fatto uscire il suo primo singolo sono stata subito molto contenta. Poi andrò al suo concerto, quindi sono molto contenta. Bellissimo. A me piacerebbe pure andare al suo concerto, quindi diciamo condividiamo un po' un interesse. Sì, ma ho avuto la fortuna di, ho i biglietti e il concerto di tutte le persone che sono state nel mio Spotify Raft, quindi sono molto contenta. Quindi sì, ho appena visto Vinicio Caposela, vedrò Levante, quindi sono contentissima. Grande, io vengo da Giorgia invece. L'ho vista quest'estate, Giorgia, sì, bellissimo. Sì, ho una passione per i concerti, se ho la possibilità vado. Poi adesso sono a Parigi, quindi ci sono molti più artisti internazionali e quindi sì. Bellissimo. La musica dal vivo poi è tutta un'altra storia. Un po' è ascoltarla registrata anche su Spotify e poi Spotify va benissimo, ma va a radare un po' la qualità, quindi si perde un po' troppo nell'ascolto. E a proposito di ascolto, vinile o cd, tu di quale fazione sei? Vinile, assolutamente. Allora, sarà che sono anche nata in una, cioè ho 19 anni, quindi ovviamente i cd li ascoltavo più da piccola, ecco. Però adesso che sono cresciuta e c'è adesso il bluetooth in macchina o comunque in giro per casa con le casse, ascolto principalmente quello, però ho un vinile a casa e ho tutti i vinili, tutti i miei, anche di musica classica che ascolto molto. Quindi li metto la studio di solito con la musica classica, quindi sì. Leggendo un po' la tua breve bio e arrivo insieme a T-Stampa, hai iniziato a fare musica quando avevi nove anni, ti sei addentrata prima col tanto, poi anche con lo studio degli strumenti e strumenti suoni tu? Allora, in realtà ho fatto solo un anno di pianoforte e tutti gli altri strumenti, che in realtà sono due, poi sto cercando di imparare la chitarra, sono appunto il pianoforte lucurele, che sono i due strumenti con cui scrivo di solito, mentre la chitarra vorrei imparare a suonarla perché penso sia molto più comoda e pratica da portare anche in giro. Però sono molto più autodidatta perché ho fatto un anno a, mi pare, otto anni e poi ho scordato veramente tutto. Quindi vado molto a orecchio, ecco, sono molto più a orecchio. Ma è l'assoluto oppure... No, no, magari, no. Il mio desiderio è più grande, se dovessi nascere un'altra vita, l'orecchio assoluto sarebbe... Va bene, e facendo un passo indietro, il tuo primo singolo invece si intitola Happiness Awaits, ce lo vuoi raccontare in maniera abbastanza sintetica? Sì, Happiness Awaits è di sicuro il singolo a cui tengo di più, diciamo, perché a parte essere il primo, è nato in un momento molto importante per me e appunto da un messaggio che ho inviato la notte e era totalmente inaspettato perché tutte le mie canzoni le ho sempre scritte con un preciso obiettivo, mentre questa è stata totalmente inaspettata ed è, a mio avviso, la scrittura migliore, tra virgolette, che ho fatto di tutti i miei pezzi. Quindi ero molto contenta di questo. E dunque, un invito ai nostri lettori, andate ad ascoltare la musica di Amiladot, perché è un artista giovane ma di grande talento e sono sicuro che con la tua musica veramente potrai illuminare il mondo. Grazie mille, mi fa molto piacere. Grazie a te per la disponibilità, a Lupo per tutto e a presto, anzi ad Maiora. Grazie, a presto.